Ciao a tutti ragazzi e ragazze e bentornati in un nuovissimo video Allora, in questo video Allora, in questo video vi volevo mostrare una cosa che ho preso in edicola Allora, cioè questo che è il nuovo Skiffidol Fluffy Skiffidol Food Slime è uscito ieri è uscito ieri, sì e io oggi sono andata in edicola e c'è trovato questo e c'era anche la Coca-Cola Allora, io ho preso i Popcorn perché mi piacevano di più della Coca-Cola Ora vi faccio vedere Ok, allora lo slime è questo Ok Allora vi faccio vedere il pezzo che mi ha delusa di più Allora se magari scende Ok, allora sono questi Oddio Ok Sono questi Il problema, no? È che C'è Sembrano denti Non sembrano Popcorn Sembro che sono stupida Ma è vero che sono stupida C'è Allora non so se riuscite a vedere se magari metta fuoco Dai Dai Ma non c'è sto Vabbè Insomma Riesce Normalmente a capire Che non sembrano Non sembrano Popcorn Sembrano denti Ecco Perché non mi piaccia Nessuno è rimasta delusa Io pensavo che era tutt'altro Cioè A me mi è piaciuto solo lo slime Solo lo slime Allora C'era anche la Coca-Cola Solo che Vedendo così Mi piaceva più questo Ma Dopo che ho visto queste cose qua Cioè Denti Pensavo che fosse meglio la Coca-Cola Perché la Coca-Cola Era gigi Era tutta Insomma Capire italiano Capire 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 Non si mangia Non si mangia Gente Controllati Controllati Ah no Sono io Topolini Sono buona Comunque Vi volevo dire Che Dato che mi prenderò Un telefono nuovo Farò Un video Su Youtube Se è su Youtube Su TikTok In cui mostrerò Questo telefono Andatemi a seguire Ovviamente Se volete Lascio in descrizione Come mi chiamo Per adesso Vi do un indizio Su come indovinare Allora Il telefono Allora È un Samsung E Allora Samsung Mi sa che ho detto Troppo Però Va bene E È davvero Bellissimo Bellissimo Anche se Direte Ma è vecchio Ma è vecchio Perché sei vecchia Però Ognuno Ha i suoi Gosti Suoi gusti Ma che è I suoi gusti Quindi Quindi Non Insult Non Stop No Mi direi Come sta Vabbè 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 Allora Ora Appetico Un attimo Come è Sto Slime Ah Voglio dire Un attimo Chi indovina Per chi indovina Che telefono Mi prendo Lo andrò a seguire Su tiktok Infatti Scrivete Nei commenti Come vi chiamate Su tiktok E scrivete Che telefono Potrei Prendere Cioè insomma Il telefono Che prenderò Lo scrivete Indovinate A chi indovinerà Lo andrò a seguire Su tiktok E Se ha un canale Anche qui Su Youtube E Li metterò Le metterò Un Cuore Al commento Anche se so Che non mi caga Nessuno Non Non scrivete Nessuno Perché sono Una scema E non sono Manco famosa Allora Scrivetevi anche Qual è Il vostro Youtuber Preferito Perché io Tutti i miei follower Anche se Ce ne sono solo tre Voglio sapere Come 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 Cosa scema Scusate Io sono una bambina Un po' Bella Fra pensiamo allo slime che è meglio allora si presenta così vabbè allora al tatto così toccarlo così sembra che proprio è invece se voi lo lavorate un pochino guardate è davvero bellissimo è davvero bellissimo è davvero bellissimo allora ok allora se fate così è normale che si rompe pom 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 ok allora poi è rilassantissimo fare questa cosa davvero tanto rilassante ah e scrivetemi anche il vostro film preferito vi chiedete che sto facendo lo scoprirete tra un po' secondo voi che cosa ha fatto cioè è rilassante e ciao te la smetti basta ti metto i miei cugino dietro basta lei questi piedi non è vero ma sono io dai sono una scema sono una scema perché non ci ha creduto nessuno ci ho creduto solo io cosa fai vuoi mettere di scema allora questo è lo slime e è bello bello allora andiamo al video così allora questo era il video spero che vi sia piaciuto commentate iscrivetevi al canale e lasciate like ciao schiha